Le nuove palazzine di Pavia Ovest sono lecite e consentite. La conferma arriva anche da chi, come Sergio Maggi, non solo è residente della zona, ma ha anche rivestito il ruolo di presidente di quartiere. Un soggetto istituzionale intermedio sparito che avrebbe sicuramente aiutato oggi a gestire al meglio la problematica. Io conosco bene la situazione perché sono stato anche presidente di quartiere più di 25 anni fa. Ritengo che attualmente la mancanza di quartiere si faccia molto sentire. Perché se non altro la modifica statutaria che prevedeva la partecipazione dei presidenti di quartiere, specialmente nella commissione territorio, avrebbe sicuramente portato una determinazione su quello che è il futuro di un quartiere. Quello che invece purtroppo non accade più. Io rispetto tutte queste associazioni che nascono, però praticamente non hanno un interlocutore che è riconosciuto dallo statuto comunale. Questa è la realtà. E purtroppo quello che stanno facendo in termini di costruzioni sono in linea con quelle che sono le normative vigenti, soprattutto la legge che prevede tutto questo. Ahimè, anche a me non piacciono queste residenze. Devo dire francamente la realtà. Però purtroppo la legge glielo consente. E quindi tutto è perfettamente in regola, purtroppo. Nel frattempo, nelle scorse ore, i residenti di Via De Pascali s'hanno finalmente incontrato l'amministrazione comunale. Ma di margini di manovra per frenare l'eccessiva cementificazione ve ne sono ben pochi. Un tema che era già emerso con la giunta di centro-sinistra. Non si può intervenire dove c'è già praticamente nella scheda e queste sono praticamente situazioni che un ufficio tecnico è in grado di, diciamo così, di dirlo francamente. Ma se in una scheda è prevista la costruzione e c'è la possibilità e una concessione di lizia, questo praticamente non si può togliere. Perché se no si va a danneggiare praticamente chi aveva avuto la concessione. Io non ho mai votato a favore, devo dirlo francamente, di quelle che sono le nuove residenze. Ma, ahimè, questa praticamente è stata una procedura che è stata adottata negli anni e di conseguenza tutto questo va nella direzione della legittimità.